buongiorno a tutti allora proseguiamo con le schedine e bollettine del gigione con il campionato tedesco poi quello francese lo farò quando torno dal calcetto eccetera 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 ma in ogni caso per sabato mattina ce l'avete tanto giocano alle 17 il campionato francese presumo adesso controllerò prima di appena termino questo perché ho fatto anche la stampata di tutti campionato tedesco stasera c'è bocum borussia monce blabba comunque la il pronostico almeno quello è già online è arrivato in ritardo quello di spezia del sassuolo spezia che stava già vincendo 1 a 0 il sassuolo perché mi si è caricato alle 19 tenete conto l'ho caricato alle 15 e 30 di oggi pomeriggio tre ore e mezza per caricare un video vedete come come mi tocca lavorare con cellulare eccetera eccetera gli altri sono fortunati hanno la fibra qua chissà quando la metteranno comunque partite del campionato tedesco stoccarda partiamo con la schedina stoccarda ausburg 1x mainz arminia bilfeld 1 erta berlino hoffenheim 2 greter furt friburgo 2 bayern monaco union berlino 1 l'ipsia aintra francoporte è partita molto bella ma penso che l'ipsia riuscirà a battere il francoforte quindi 1 bosburg bayern leverkusen altra partita da libidine ma qua rischio l'ips 2 e colonia borussia dormon 2 schedina alternativa stoccarda ausburg over 1 e mezzo mainz arminia over 1 e mezzo erta berlino hoffenheim gol a mio rischio e pericolo greter furt friburgo gol bayern monaco union berlino over 2 e mezzo nevandoski vorrà fare a battere arrivare a 50 reti quest'anno l'ipsia aintra francoporte gol bosburg bayern leverkusen gol e concludiamo con colonia borussia dormon over 2 e mezzo andiamo a vedere il gigione cosa ha scelto come partite il gigione ha scelto greter furt friburgo tutte di sabato è mainz arminia erta berlino hoffenheim e stoccarda ausburg quindi partiamo con la schedina delle fisse naturalmente la schedina delle fisse quella che faccio io quindi ho l'obbligo di mettere solo fisse ma voi non avete questo obbligo quindi se volete mettere qualche doppia a vostra discrezione lo potete fare greter friburgo 2 mainz arminia bilifeld 1 erta berlino hoffenheim 2 stoccarda ausburg 1 con 5 euro se ne vincono 44,69 bollettina numero 2 greter furt friburgo multigol ospite 1-3 mainz arminia bilifeld multigol casa 1-3 erta berlino hoffenheim multigol ospite 2-4 stoccarda ausburg multigol casa 1-3 con 5 euro se ne vincono 17,33 ma come dico sempre meglio pochi piuttosto che niente ma è piuttosto ecco o meglio pochi meglio buoni che pochi meglio pochi che buoni no vabbè quello che era comunque piuttosto che niente ma è piuttosto è meglio meglio pochi ma buoni ecco era una cosa giusta era meglio pochi ma buoni mi ero un attimino confusciuto confuso a parte gli scherzi proseguiamo con la bollettina numero 3 greter furt friburgo is 2 piove mainz arminia bilifeld 1 is piove erta berlino hoffenheim is 2 piove stoccarda ausburg 1 is piove con 5 euro se ne vincono 22,61 sono un po pochini opzioncina opzioncina estra che libidine greter furt friburgo is 2 piove mainz arminia bilifeld 1 is piove erta berlino hoffenheim 2 piove stoccarda ausburg 1 is piove con 5 euro se ne vincono 30,53 come vi dico sempre gli over sono sempre over 1,5 e a proposito di libidine bollettina numero 4 greter furt friburgo gol casa mainz arminia bilifeld gol ospite erta berlino hoffenheim gol casa stoccarda ausburg gol ospite con 5 euro se ne vincono 21,33 mi sembra quattro volte la posta non male bollettina number 5 e stranamente ebbè una 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 per una le altre andavano tutte bene ma quella lì non si fidano greter furt friburgo gol piove mainz arminia bilifeld gol piove erta berlino hoffenheim gol piove stoccarda ausburg gol piove con 5 euro se ne vincono 101,47 ma attenzione perché il gol dell'arminia presumo è nel gol piove perché il mainz è favorito quindi teoricamente dovrebbe segnare lui però comunque in questa partita qui il gol piove non è favorito poi se segnano solo il mainz segna solo l'arminia vedremo chi vivrà vedrà noi non abbiamo la sfera ma io come dico sempre ho la pelata ma non ho la sfera magica anche se i miei amici spesso arrivano vedo 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 mi fanno gli scherzetti comunque mainz arminia non è favorito come dico sempre o vi giocate solo 2 euro e ne portate a casa 40 o vi giocate le tre partite separate che sono da libidine che sono favorite o scegliete quella più favorita tra le favorite la mettete in una bolletta insieme ad altre due o tre partitine più diciamo più gestibili ecco per intenderci più scontate magari tre doppie ecco per intenderci mettete un bel gol piove con tre doppie sotto di altre tre partite anche di altri campionati potete sbizzarrirvi prendendo i miei pronostici da uno da uno da uno da uno da uno e farvi la bolletta su misura io vi do degli esempi l'ira gruppo per semplificare le cose vedete un attimino voi ormai è inutile che vi ripete sempre la solita pappardella andiamo alla bollettina 6 folle Greter Friburgo Greter Friburgo due più gol Mainz-Arminia-Bilifeld uno più gol Erta-Berlino-Hofenheim due più gol Stoccard-Ausburg uno più gol con 2 euro se ne vincono 292,29 con 5 euro 730,74 ma siccome che l'unica partita in cui il due più gol è favorito Erta-Berlino-Hofenheim gli altri il gol proprio Cipi-Rimerlo bolletta alternativa Greter Friburgo due più no gol Mainz-Arminia-Bilifeld uno più no gol Erta-Berlino-Hofenheim due più gol Stoccard-Ausburg uno più no gol e in questo caso con 2 euro se ne vincono 127,36 con 5 euro 318,40 sarà importante anche vedere questa sera vabbè che quando questo video sarà in onda sarà già strafinita la partita ma comunque visto e considerato che questo video spero sia online entro mezzanotte di questa sera di venerdì vedete com'è andata Bo con Borussia Mönchengblabba perché come si dice di solito il buongiorno si vede dal mattino se la prima partita subito è ricca di gol eccetera non è detto però ci sono buone chance che anche il resto della giornata regali, gole eccetera eccetera poi c'è sempre la partita che finisce 0-0 o 1-0 perché è un must però magari le altre tutte over 2,5 o gol più over eccetera eccetera se la prima magari ti finisce 1-0, 0-0 eccetera eccetera non vuol dire una beata Giovanna ripeto però se è positivo prendetelo positivamente se è negativo prendetelo con le pinze non date per scontato che se finisce 1-1 Bo con Borussia Mönchengblabba che anche le altre più di due gol non fanno certo se termina 0-0 e vi fate due maroni così è un altro discorso rega soli io vi saluto, vi ringrazio vado a cambiarmi per andare a giocare a calcetto quando torno doccetta, mangio qualcosina eccetera poi vi faccio il campionato francese in modo che sia online per la mattina farò i pretini e poi andrò a dormire che oggi è stata una giornatona di video ciao sperando di tornare dal calcetto